... Inizia l'anno con una battaglia, una battaglia per il nostro territorio perché? Perché la legge di bilancio, che è la legge più importante che si approva in Parlamento durante l'anno e non contiene le cose che erano state promesse, le cose di cui necessitiamo e non ci sono nemmeno quelle che avevamo fatto lo scorso anno come governo di centrosinistra, quindi siamo al ribasso. La deputata Stefania Pezzopane e tutto il PD aquilano lanciano l'allarme in merito alla legge di bilancio 2019 approvata definitivamente dalla Camera. L'aquile uscita dall'agenda politica di questo paese e quanto aggiungono i dem dopo il mancato trasferimento di 10 milioni di euro al comune del capologo abruzzese per il ristoro delle maggiori spese e delle minore entrate dovute al post-terremoto. È una legge di bilancio recessiva dove si premia la spesa improduttiva a svantaggio di quella produttiva che crea lavoro. e nello specifico in questa legge di bilancio hanno bocciato proposte che come quella dei 10 milioni di euro per il comune dell'Aquila sono proposte fondamentali perché senza quei soldi il comune dell'Aquila dovrà mettere le tasse e tagliare i servizi. Sempre in questi anni abbiamo assegnato i fondi al comune dell'Aquila, ai comuni del cratere 2009 per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese. Poi la proroga sulla questione della restituzione delle tasse è stata fatta in corner e solo per sei mesi. Vengono tagliati i fondi per l'apertura del maxi all'Aquila e non si investe sulle attività produttive per il cratere 2016-2017. Insomma non si vede un profilo di rilancio di questi territori così come avevano promesso. È inutile che poi vengono a fare le passeggiate all'Aquila e nel cratere se poi quando è possibile come nella legge di bilancio non vengono mantenuti. Siamo a proroghe di precedenti provvedimenti anche sui tribunali. La proroga dei tribunali minori è appunto una proroga. Nessuna azione viene fatta per risolvere il problema. Quindi siamo scontenti, insoddisfatti di questa legge. Critiche al governo gialloverde vengono espresse anche da Francesco Di Paolo primo cittadino di Barisciano in qualità di coordinatore dei sindaci. Noi del cratere, nei sindaci del cratere possiamo ritenerci parzialmente soddisfatti perché è vero che ci sono i 2 milioni ma mancano da una prima lettura della legge i fondi per i cococode fuori cratere che sono essenziali per il proseguo dell'esame delle pratiche. Su queste questioni il PD annuncia che nei prossimi giorni verrà organizzata un'iniziativa politica pubblica. E poi emendamenti nei prossimi provvedimenti in Parlamento perché tutto quello che ci serve ci venga attribuito senza dover andare col cappello in mano ma perché sono diritti e non favori. Infine la vicenda dei pedaggi autostradali. Un aumento del 19% penalizzerebbe ulteriormente uno territorio che come è noto già vive e soffre una crisi economica profonda oltre al terremoto e quant'altro. Sembrerebbe che questo aumento sia stato scongiurato per il momento solo grazie alla buona volontà del titolare della concessione. Speriamo che il governo al più presto possa fare un decreto che scongiuri definitivamente l'aumento che porterebbe ulteriori danni alla nostra economia. Speriamo che il governo al più presto